Uno di famiglia, Pedro, questa simpatica tartaruga maschio, regolarmente dotata di cipe registrata, che da anni fa compagnia al figlio di Claudio, cittadino di Casale di Scodosia. Il figlio è in vacanza. In questi giorni d'estate, Pedro viene portato a casa di Claudio, dove trascorre le sue giornate tra l'insalata dell'orto. Tutto bene fino a giovedì scorso, quando rientro a casa la sera. Pedro era sparito. Senza perdersi d'animo, Claudio ha iniziato le ricerche con tanto di cartelli appesi in paese. Una ricerca che ha coinvolto tutta la comunità di Casale di Scodosia. Due le segnalazioni arrivate dagli avventori del vicino bar, duca, caffè, due i sopralluoghi rivelatisi fallimentari. Nessuna delle tartarughe segnalate era Pedro, che ha una singolare crocetta sul carapace. Poche ore fa, il terzo buco nell'acqua, seguito dal sospiro di sollievo. In mattinata, Pedro è stato notato passeggiare proprio dal titolare del duca caffè, Luigi, che ha riaffidato la tartaruga in fuga a Claudio. Non aveva fatto molta strada, Pedro, 20 metri appena, che dopo sei giorni, è tornato affamato a camminare pacificamente tra la fresca insalata in attesa di finire le vacanze.